La Nautica ritrova una sua vitalità e programma un nuovo sviluppo economico. Torna al Marina d'Arecchi di Salerno dal 2 al 10 ottobre la quinta edizione del Salerno Bocciola, suggestiva vetrina con 100 espositori, 150 imbarcazioni ed oltre 80 marchi nautici che promuove l'incontro con la clientela nautica e che grazie alla partecipazione di cantieri, boker, vari marchi legati al settore dell'accessoristica nautica e dell'abbigliamento tecnico e operatori del settore afferenti ai servizi complementari, si candida come punto di riferimento per la Nautica del Centro Sud Italia. Due weekend ad ingresso gratuito il 2 e 3 ottobre, il 9 e il 10, mentre gli espositori durante la settimana potranno incontrare la clientela a suo appuntamento. Una quinta edizione del Salone della Nautica che sarà inaugurata sabato mattina alle ore 10 alla presenza tra gli altri del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del presidente nazionale di Confindustria Nautica Saverio Cecchi che celebra, come ha dichiarato Agostino Gallozzi, presidente del Marina d'Arechi, anche il successo del porto turistico per la stagione estiva appena conclusa che ha visto attraccare 900 imbarcazioni. Nautica vista sia come turismo che viene dal mare, quindi con un'interpretazione in linea con il turismo che merita tutto il nostro contesto, le nostre coste, le nostre bellezze, però anche immersi in un contesto di sviluppo economico che intendiamo promuovere proprio con il Salerno Boat Show perché la nautica, al di là dell'aspetto ludico e turistico, rappresenta una filiera di attività molto lunga che va dalla canteristica all'artigianato, ai professionisti, a tutti coloro che muovono il mondo della nautica e quindi uniamo la doppia visione. Sarà un primo fine settimana, questo del giorno 2, aperto al pubblico, peraltro con ingresso gratuito, questo è proprio fatto e mantenuto anche in questi anni per favorire lo sviluppo di questo contesto. Poi avremo i giorni infrasettimanali dedicati agli operatori del settore e poi ancora l'altro fine settimana aperto nuovamente al pubblico. Il quinto salone del Salerno Boat Show sarà ancora una volta l'occasione per rilanciare il settore della nautica che negli ultimi tempi ha registrato un incremento anche legato al momento della pandemia. Sì, la nautica viene fuori da una fase di crisi, quella del 2010-2012. Nel 2014 noi lanciamo la prima iniziativa di promozione proprio per combattere la crisi dell'epoca con il primo Salerno Boat Show. Oggi siamo ancora a affrontare una crisi che viene dopo la pandemia, però in un settore che ha ritrovato una sua vivacità molto forte, tant'è che anche nel Salone Nautico di Genova, col quale da quest'anno siamo collegati dallo stesso tipo di percorso, ha registrato un incremento degli ordini da parte dei cantieri italiani altissimo. Si comincia a parlare di consegne, di imbarcazioni nuove per il 2023, il che significa che effettivamente c'è stata una svolta molto forte e noi a Marina da Rechi, partiti qualche anno fa, siamo pronti a coglierla tutta. La svolta si è registrata anche quest'estate, l'occasione è per fare anche un bilancio di ciò che è stata la nautica quest'anno? Sì, noi abbiamo messo in campo queste azioni di promozione, ripeto, dal 2014 proprio per contrastare la fase di crisi e devo dire che con impegno e anche con constanza abbiamo registrato prima l'anno scorso e poi quest'anno risultati molto importanti. Noi quest'anno siamo arrivati ad avere 900 imbarcazioni all'ormeggio che è una quantità praticamente ci ha saturato, noi abbiamo una capacità di 950 imbarcazioni e comunque una certa quantità viene lasciata per il transito. Quindi noi siamo pieni, ma la cosa che mi sembra molto interessante è che le azioni promozionali di Marina da Rechi e di Salerno Boccio, diciamo la verità, mai fatte prima nel comparto della nautica, prima delle nostre iniziative, ha fatto in modo che l'intero comparto crescesse, tant'è che la nostra crescita non ha significato la decrescita di altri. Gli altri ormeggi nel Salernitano comunque sono stati tutti occupati, il che significa che le 900 imbarcazioni di Marina da Rechi sono una nautica in più, questo significa sviluppo.